amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi vi facciamo vedere un lavoro un po particolare siamo a metà dell'opera quindi non vi facciamo vedere la macchina finita però tanto vi cominciamo a elencare quello che stiamo facendo e quello che poi andremo a fare allora questo è un cliente che ci ha portato questa macchina una macchina piccolina opel corsa 1200 quindi senza velleità di nessun genere molto anonima diciamo quando ci è arrivata era molto anonima adesso diciamo la stiamo pian pianino personalizzando il cliente ci ha chiesto di modificarla a livello prettamente estetico in maniera quasi radicale quindi cosa abbiamo fatto abbiamo acquistato e montato il kit estetico queste appendici estetiche che riguardano allo specifico il paraurti anteriore quindi non sono solo delle appendici ma è proprio tutto il paraurte anteriore ovviamente abbiamo montato le relative griglie di areazione è stato il tutto è stato verniciato nel colore della carrozzeria quindi anteriormente cambiate in maniera notevole anche se non è eccessivamente pesante la parte laterale queste mini gonne laterali che vengono montate sui lungheroni e nella parte posteriore questo paraurti che va a completare il posteriore quindi a livello estetico diciamo come parti di carrozzeria abbiamo sostituito questo adesso chiaramente il lavoro a metà dell'opera abbiamo poi montato questo spoilerino e il cliente ci ha chiesto di fare il tetto e lo spoiler in nero se non sarebbero stati ovviamente bianchi quindi a livello di carrozzeria mancava appunto questo spoiler abbiamo verniciato la parte tetto e spoiler in nero lucido quindi la parte estetica diciamo a livello di pezzi carrozzeria le abbiamo completato adesso a questo punto quello che balza all'occhio in maniera veramente disastrosa orribile sono questi cerchi con questi copricerchi una delle cose che veramente non riesco a sopportare sono i copricerchi e quindi abbiamo convinto il cliente a sostituire ci sono già arrivati questi sono degli degli o z degli sparco prodotti dallo z sono dei 7 per 17 quelli sono dei cerchi da 15 pollici quindi passiamo da un 15 a un 17 ovviamente col 17 andranno cambiate anche le gomme quindi è ovvio che a lavoro finito diciamo che cambia radicalmente se noi lo guardiamo perpendicolare cambierà radicalmente l'estetica perché uno può fare qualunque lavoro di carrozzeria ma con questi cerchi qua lo ammazza immediatamente quindi questi adesso li portiamo all'officina grande montiamo le gomme le bilanciamo e le montiamo poi a livello di completamento lavori adesso questo non l'abbiamo ancora scartato verrà montato il terminale sportivo ragazzon che ovviamente uscirà diciamo nella sua parte originale sulla sinistra quindi un terminale uscita singola e completeremo il lavoro con la parte meccanica filtro aria sportivo della bmc il pedal booster per dare un pochino più di grinta al motore visto che un aspirato non possiamo fare grosse cose il pedal booster direi che a livello motore la cosa più logica che possiamo fare quindi come dicevo a livello motore abbiamo sconsigliato al cliente di intervenire elettronicamente perché essendo un 1200 aspirato diciamo che l'incremento che possiamo garantire non va oltre i 3-4 cavalli quindi onestamente il gioco non vale la candela da un punto di vista di resa spesa in questo caso proponiamo come spesso accade il montaggio del pedal booster che è un sistema che va a togliere quel lag iniziale quindi una macchina che soprattutto montando delle gomme più grandi sarà leggermente più penalizzata a livello di perfetto già va poco adesso se noi montiamo anche le gomme ovviamente andrà ancora un po meno per cercare di supplire a questo handicap andiamo a montare il pedal booster che come dire renderà la vettura più brillante e soprattutto in partenza farà calare meno di giri fra una cambiata e l'altra e quindi dovrebbe garantire un ripristino delle prestazioni questo filtro aria sportivo andiamo poi a montare la nostra mitica pedaliera che abbiamo fatto che sono 34 anni che montiamo su svariate vetture adesso le macchine di più recente costruzione ne montiamo meno però se faccio un calcolo di quante le abbiamo montate nel corso degli anni abbiamo fatto una stima che le abbiamo montate quasi un migliaio quindi direi che è stato un buon successo e l'ultima cosa che farà Mirko sarà quella di verniciare ovviamente questa macchina ai tamburi posteriori non possiamo fare nulla andrà a verniciare le pinze freno anteriori colore rosso in maniera tale da evidenziarle con un cerchio di questo genere che ha le razze abbastanza larghe e quindi la pinza che se è anche una pinza piccolina verniciata in rosso chiaramente valorizzerà meglio quello che è l'aspetto generale io direi a questo punto per questo lavoro che abbiamo fatto adesso è tutto magari a completamento se avremo tempo quando la macchina sarà completata nel giro di un paio di giorni riteniamo di completare il tutto possiamo fare un video di aggiornamento per il momento è tutto vi invitiamo a contattarci telefonicamente in sede per qualunque informazione 0273 83175 io sono in sede dal lunedì al venerdì mi trovate quando volete vi invitiamo a consultare il sito www.9000giri.it soprattutto consultando l'archivio elaborazione oltre a tutte quelle cose che facciamo sulla sinistra c'è un archivio elaborazione cliccate in fondo a destra dove troverete vi farete una cultura su tutte le macchine che abbiamo fatto in questi ultimi dieci anni ci sono più di 3600 schede vettura che sono un patrimonio a livello proprio di informazioni che ben pochi in italia possono avere per qualunque altra cosa cliccate sulla campanella iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo un saluto alla prossima grazie a tutti